Il 12 ottobre 2020, la Regione del Veneto ha avviato su tutto il territorio regionale la campagna vaccinale antinfluenzale. La diffusione del COVID-19 rende ancora più importante la prevenzione della diffusione dell'influenza stagionale per proteggere i soggetti più fragili, contenere gli accessi al pronto soccorso, supportare l'individuazione dell'infezione da COVID-19 e la conseguente gestione dei casi sospetti. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per gli operatori sanitari, tutti i cittadini sopra i 60 anni di età, ospiti delle strutture residenziali, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età, familiari e contatti adulti e bambini di soggetti ad alto rischio di complicanze da influenza, soggetti addetti a servizi pubblici, forze di polizia, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, farmacisti, donatori del sangue, personale che per motivi di lavoro è a contatto di animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, allevatori, trasportatori, veterinari. Per tutti questi soggetti il vaccino è gratuito. Se appartieni a queste categorie, rivolgiti al tuo medico di base o alla tua ULS territoriale. È possibile vaccinarsi fino a dicembre. La disponibilità del vaccino verrà gestita secondo le priorità stabilite dalle singole aziende ULS. Regione del Veneto, il tuo ruolo è vaccinarti contro l'influenza.